Poco più di un anno fa avevo un problema. Mi ritrovai in ospedale con i dottori che mi dicono che avevo un problema al cuore. Per di più avevo anche un problema di diabete che non sapevo di avere. Mi dettero otto medicine per il cuore e dovevo prendere quattro iniezioni di insulina al giorno. Ed ero arrivato a 140 kg di peso dopo il lockdown del covid perché mangiavo tutto e troppo. Adesso vedrete poi le foto. Ho ricevuto una chiamata da un amico e mi ha detto cosa c'è che non va? Io gli dici come cosa vuoi dire? E gli dice sono sicuro che c'è qualcosa che non va con te. Iniziamo a parlare dei cerotti e lui mi parlò dei cerotti. Diciamo che ho la fortuna di essere seguito molto a livello medico. Per quello posso parlarvi di alcuni risultati molto molto specifici di quel periodo della mia vita. Facevo test del sangue ogni giorno e varie altre cose. Diciamo sei mesi che usavo X39 e anche il cerotto X49 e qualche cambio alla dieta. Il mio dottore mi disse non l'ho mai detto questo al mio paziente ma non hai più il diabete, non hai più bisogno di insulina. I test dicono che il tuo pancreas e tutti gli altri organi sono molto più giovani della tua età biologica. E questa fu la fine delle mie iniezioni di insulina. Poi il mio cardiologo qualche mese dopo mi disse ti ho fatto fare tutti i test due volte perché il nostro team non riusciva a crederci. Non riusciva a credere ai risultati perché nessuno di noi credeva che stessimo guardando ai risultati di un settantenne ma invece tutto indicava i risultati di un cinquantenne. E non abbiamo neanche potuto più trovare una traccia di qualsiasi complicazione cardiaca. E quella fu la fine di otto medicinali per il cuore. Quindi non vi sarà difficile immaginare che sono stato molto attivo nella divulgazione di questa tecnologia dopo questo grande risultato. Ho 79 anni adesso e vabbè questo è il mio risultato personale.